Vengo a Imaia, profezia del codice Dresda, il carteggio del codice Maia è custodito a Dresda in Germania, sono circa 74 fogli, ed è il codice dell'eclissi e dei transiti di Veneri, sapete che Imaia erano grandissimi astronomi e matematici, ebbene in una di queste pagine c'è questa profezia qui, che vediamo qui ingrandita, la morte seduta su un trono di ossa che parla e ammonisce con il dito indice alzato e dice la profezia, guai a voi della terra, verrà la fine dei cavalieri giaguaro e l'inizio di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente, e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Anche qui i cavalieri giaguaro sono i distruttori della vita, quindi gli assassini, i guerrafondai, le mafie, i corrotti eccetera eccetera. Parla di una nuova era che ci sarà, la profezia Maya non ha mai parlato della fine del mondo, ha parlato della fine, come cita il tuo libro, di un mondo, di un modo di vivere, ma non che l'umanità finiva, anzi parla di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente, quindi la vecchia era, quindi il vecchio modo di vivere, le vecchie strutture crolleranno, verranno ridotte in cenere. La nascita della nuova era corrisponderà anche al tempo in cui ci sarà l'incontro con coloro che governano il viaggio interstellare, i signori delle stelle. La cosa strabiliante è che la profezia Maya ci dà una data, l'11 luglio 1991, dove dice ci sarà un evento astronomico, siamo nel codice dell'eclissi, quindi un'eclisse, e quel giorno i signori delle stelle daranno un segno pubblico e palese che sarà visto da migliaia di persone per indicare al mondo che sarebbe iniziata l'ultima fase del progetto di contatto massivo delle società extraterrestri con l'umanità del pianeta Terra. La cosa strabiliante, visto che il 91 ormai è passato da un pezzo, è che l'eclisse c'è stata, è stata una delle più lunghe della storia del Messico, oltre 7 minuti, ma durante l'eclisse un disco volante è stato visto da migliaia di persone, è filmato da oltre 100 persone, perché siamo nel 91, era l'inizio delle vecchie telecamere VHS domestiche, quindi c'è stato il segno. Come facevano i Maya a sapere che secoli dopo le società extraterrestri avrebbero fatto questo? E come facevano a sapere che quella data avrebbe marcato l'inizio di un'escalation di eventi a livello mondiale della manifestazione di questa aviazione non terrestre in tutto il mondo perché tale è quello che è accaduto? Perché i cerchi nel grano diventano pienamente operativi come segno comunicativo attraverso il simbolo proprio nel 1992, esattamente il 23 di maggio. Appare il primo simbolo inequivocabilmente comunicativo e curiosamente compare varie volte quell'anno e il simbolo che rappresenta era comunicazione tra cielo e terra o unione tra cielo e terra. Quindi iniziamo a comunicare. Da allora i cerchi nel grano ci hanno veramente attraverso questa bellissima artistica e meravigliosa manifestazione simbolica comunicato un sacco di informazioni.